dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Rimini. Abbiamo iniziato l'anno scorso questo progetto che ci ha aiutato a scoprire luoghi e paesaggi che anche noi conosciamo un po' del nostro territorio. Lo scopo di questo progetto è quello di cambiare la visione, chiaro e tristi del territorio della nostra terra. Abbiamo fatto diversi rischi.